Ciao a tutti, ciao a tutti, bene a tutti ragazzi Eh, fai l'introduzione Lambo Lagga, diciamo Non sta laggando, no, no, dai vai, introduci, introduci Eh niente, siamo su God Simulator Pitta, stai zitto, anche noi siamo riusciti a ottenerlo in modo illegale No, no, è tutto legale Sì, infatti, e voi dite, va, lasciatelo Allora, stiamo girando come dei coglioni da mezz'ora nel frattempo che caricava Action Quindi, direi di fare qualcosa Cominciare Perché non eri tu a provarlo Eh, infatti, l'ho scoperto un chiodo Alla console Vai, saltiamo giù di qua, sì Per Simo Buongiorno, buonasera, anzi Ma tu metti tre, ma se ci fai Ma che fai Io non ho una testata Ma come si allunga il coglioni Vai, vai, vai Sargiare Buttati in acqua, c'è l'è l'acqua Ah, oh, le gare quelle Guarda, guarda, eh Se riesco ad attaccarmi Speriamo che sia sempre lo stesso No, non riesco Dai, ce lo devo fare Se il percorso è sempre lo stesso Che riesco ad attaccarmi con la legge Dai Tanto è arrivato anche Eh, ma Così abbiamo un ritorno di gangbang Perché abbiamo anche Dottore Grande doc Mamma mia Allora Dov'è, dov'è, dov'è Dov'è Se me gioco l'orologio Perché sa qua la macchina Eh, che sta facendo questo Dai, vuole giocare a palla Eh, non so che Vediamo, vediamo quando lo investe Vabbè, abbiamo capito Il primo gioco Mancava il mio, mancava Sì, sì Vabbè, eh Non ha, da quanto capito Non ha uno scopo questo gioco Quindi Quindi Non lo spatterò È tipo il GTA, ma sei una capra Esatto, bravo In quello che sei sempre rispetto È vero Vediamo cosa possiamo fare Qua sono tutti morti Allora E' tante questi due vuoi che stanno lamentando per non so cosa Sei un po' perché Quindi credo che Uno di questi Dov'è, dov'è averlo preso Ah, tu, due lo avresti Vabbè, c'è un cartello No, la cartella si è sbagliata No, non so Ah, ah, c'è un'altra con un po' da libro Sì, senti un po' da libro Intanto tipo li stai schiacciando lì Guarda come si girano le gambe Tanto è morto Non penso senta qualcosa Guarda come si girano le gambe No 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 Se non si è staccato Oddio E ancora lì Boh, lì c'è uno che ha tirato sotto una persona No, quella lì la ho tirato Oddio Ok Ok Fa ridere quando sanno Esatto Fa ridere In quanto a lingua Proprio Mairisaurus Mi fa una pipa Sì, anche Lecchiamo un paio di martelli adesso Da notare Ah, quella è ragù Ah, sì, è ragù Ma come si fa l'imbalza questo? Allora, ragazzi, questo qui sarà una specie di teaser Eeeer Eeeer Cosa è quel cos'è? No, si è staccato Si è staccato No, no Fa qualcosa Ah, no Oh, cazzo Lei è quel uno Oh C'è uno Ce n'è uno che è uguale lì Sì, sono fratelli Adesso prendo anche lui No, no, no E' questo che faccio Questi due E' una No, la lingua è una sola Sì, ma è molto sicuro Che sarà un polino qua su un palazzo No, non è una lingua Sicuro quasi come te Infatti Oh Allora, stavo dicendo Questo qui sarà una specie di tre Perché se quali da altri video C'è un lavoro D'accordo con la gangbang Quindi il nostro Dottore Dottore Benissimo, saluta Bella Ah, giusto Stavo Il nostro No, la c'è a perdere Sì, beh E' to' ira E' to' ira Iacobbino Pite Dema Se volete vedere altri video Pro Fatti c'è seramente Nel senso Tipo non questo Tipo No, no Tant'è durato Ma io le cose Delle notte Delle notte Ma io Eh, mi deve essere Diceva raggiungerlo Senza prenderla aerea Ma io E' aereo Stattimento Ma è Punti Ma è Punti 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 Mi dicevano Punti 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 Sembra la puzza dei Looney Tunes quando salta la pensa a quella ragazza Lo stai dicendo? Capite se fa le seghe mentali sui Looney Tunes No, non solo Looney Tunes Eh beh, è giusto E cosa? È giustissimo Intanto continuano a far punti, io non so perché Oh, ti parte la cosa Oh, guarda No, 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 siamo riusciti a ucciderlo No, no, fai quel coso Eh, via, via la cosa, via la cosa, via la cosa, venga Ma già che erano le lotte, ripeto Ma cosa succede? È il confine, eh, dite Perché Le lotte dove sono le lotte Dove sono? Vabbè, io mi lancio Prendo una ricorsa e mi lancio Vabbè, era un'apparenza Oh, porca puttana Attenzione Pronto, la musica Ma vi ricordate? La musica, naturalmente, che varrà bannata dal copyright Perché di sicuro la manpresza da qualche artista Un'altra famosa Esatto Dai, talk to Che se la prenderà con noi perché la prenderà Stato, dobbiamo rifingliare la legge Ecco Quanto avrebbero, insomma, si dia a fare una casaccia L'abbè, non c'è niente in questo gioco però Ok, allora Cerchiolini Mi sa che questo non verrà caricato No, no, viene creditato Tanti Beh Ti dico ora Sì Ragazzi Siamo dicendo, abbiamo bisogno di soldi Ragazzi, scrivete nei commenti se volete altri episodi Che saranno corti perché abbiamo bisogno di soldi No, scherzo Però saranno corti, però saranno montati E quindi tipo le partite che erano una stessa Esatto Alla fan di Montez Cos'è non è lo stupido Guarda sta ballando Dove nemmeno stupido Dove nemmeno stupido Ah, dove si riesco a A metterlo dentro la Non c'è niente Mi dicevano che il quale era fatto bene Tipo non avrei salutato migliaia di volte in video continuo No, 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 vai buttati dentro, cazzo Non ci siamo Oh Ma no, eh, non lo sai Non lo sai E se la sera più di minuti Dai Ok dai Se abbiamo i 7 minuti Vieni a arrivare gli altri Che vediamo seriamente stavolta Allora ragazzi Ha detto ciao da 4 minuti Adesso siamo all'ottato Allora Seriamente ora Ripeto con ciò che ha detto Peter Se volete vedere altri video montati bene Con tutti gli effetti del caso Quindi però usciranno una volta ogni 2-3 settimane E con la gang bang qui di fianco che ho Se volete mettete un bel like Con la gang bang qui di fianco che ho Non mi sa fa niente Ah, ce l'ho fatta Era ora Ma io non sto toccando, vi giuro È la prima cosa che c'è capito di fatto Albertisti Detto questo noi ci salutiamo Ciao a tutti Bella Bella